Scusate, siete cotti? Bene? Benino? Mi piace? Scusi? Lei? Posso chiedere la sua impressione? Va bene questo fogherello o non le piace? Fatemi capire. Ah sì, 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 sì. Devo dire che grazie molto questa nuova televisione. Certo? Un po' caldino forse? Abbassiamo la temperatura, signorina? Eh? Non è di forse di vostro... Vero? Sempre le solite abitudini? Brutti vizi, eh? Questo è proprio un vizio brutto. Il fuoco, il camino. Vero? Hai ragione. È un brutto vizio questo, eh? Eh già, è una strana dipendenza. Fuori piove e noi ci guidiamo il cadduccio. Capri e il camino parte due. Nocciolina? Ok. Perfetto. Scusate il disturbo. Ciao ciao, noi ci guidiamo ancora il camino. Come tutti i giorni. Toccherà fargli un camino personale. Ciao, ciao pistacchio. Ciao.